Il Tirana European Youth Film Festival che si è tenuto durante il mese di settembre a Tirana è stato un evento culturale e artistico molto importante per il fatto che ha saputo generare valori. Artistico di alta qualità con film che si diffondono da diversi paesi d'Europa. Erano un gruppo di giovani cineasti stranieri e albanesi che, con i loro film, trasmettono in un chiaro linguaggio filmico i problemi affrontati dai giovani oggi in Europa e oltre. Va notato che questa è la prima edizione di questo festival europeo del cinema giovanile in Albania ed è del tutto naturale il mosaico di emozioni dello staff dirigente del festival guidato dalla sua direttrice Eliana Gipali. Ma un po' di più dei cineasti che hanno portato in concorso il loro primo o secondo lungometraggio. Il pubblico era molto ampio. Anche il dibattito critico sui film e sugli autori creativi è stato seguito con maggiore curiosità. Sono stati proiettati otto film di finzione e un film documentario. La giuria era selezionata e abbastanza eterogenea nei valori professionali. Nella serata di gala organizzata presso il centro d'arte Agimi sono stati assegnati quattro premi dalla giuria e un premio dal pubblico. Auguriamo lunga vita a questo festival in questa sfida che si è prefissato per promuovere la settima arte in Albania. Grazie.